L'era del cinghiera e bianco è l'inizio del cammino che porterà battiato alla consecrazione di pubblico e critica, un tassello fondamentale per la carriera di una singolarità nel panorama musicale italiano. Sono passati 40 anni e l'album di questo grande artista ci permette ancora oggi di conoscere e amare le profondità iniziatiche dell'essere con un po' di frivola ma insostenibile leggerezza ontologica, contro i mefitici turbamenti dell'incedere del tempo.